La didattica che conclude il modulo relativo alla ricerca informata nello spazio degli stati è dedicata all'euristica. Il concetto di euristica è importante perché possono esserci euristiche migliori di altre come vedremo e il miglioramento si traduce in maggiore efficienza dell'algoritmo, reale capacità di poter fronteggiare problemi reali, capacità migliore rispetto ad altri, successo sul mercato. Quindi il trasferimento tecnologico e dell'intelligenza artificiale dai laboratori accademici e dai laboratori pensiero al prodotto sul mercato è proprio legato al ritrovamento, determinazione e valutazione di euristiche efficienti. Quindi abbiamo due problemi davanti, uno è quello di capire se abbiamo più euristiche per il nostro problema, come valutare se uno è migliore di un'altra, questo è il primo problema, valutare e confrontare strategie euristiche fra di loro, funzioni euristiche fra di loro. Il secondo problema è quello di determinare le euristiche, capire se ci possono essere dei metodi automatici o semi-automatici per poterli andare a produrre. Intanto diciamo che l'euristica è una funzione di valutazione di ciascun nodo nello spazio degli stati che come sappiamo per essere ammissibile deve essere una sottostima del costo ottimo del percorso dal nodo in questione al nodo destinazione, quindi deve essere un valore positivo e appunto minore del costo ottimo. Quindi il valore dell'euristica si può muovere fra questi due estremi, nel caso che fosse zero per tutti i nodi avremmo praticamente che la star si tradurrebbe in un uniform cost search. Nel caso in cui invece fosse esattamente pari al costo ottimo del percorso dal nodo N fino al nodo Goal, in pratica questa non sarebbe un'euristica ma sarebbe una specie di oracolo, cioè in pratica non faremo ricerca ma faremo direttamente lo sviluppo del percorso. e questa è una sezione ideale. Comunque questi sono i due estremi in cui ci andiamo a collocare. Le euristiche possono essere tante, per esempio per il classico problema dell'N-PALS sono state sviluppate varie euristiche e due in particolare sono quelle che sono riportate qui. Potremmo considerare come euristica il numero delle caselle fuori posto. Per esempio qui vediamo che rispetto a quello che è il Goal, la casella 7 sta fuori posto, il 2 no, il 4 sta fuori posto, il 6 no, l'1 sta fuori posto, il 3 sta fuori posto, l'8 sta fuori posto e anche il 5 sta fuori posto. In pratica abbiamo 6 caselle fuori posto e questa potrebbe essere la stima delle euristiche di questo nodo. Perché ovviamente per poter arrivare al nodo destinazione almeno una volta quella casella dovrà essere mossa e quindi è un numero sicuramente positivo, maggiore di 0. Per il Goal il numero di caselle da spostare è 0, quindi alle euristiche 0 per il Goal ed è sicuramente una sottostima perché sicuramente per spostare, per raggiungere da questo nodo al nodo destinazione il percorso dovrà, quella casella dovrà fare ben più di una mossa. Ma oltre a questo c'è anche un'altra possibile euristica che è la somma delle distanze in orizzontale e in verticale di ciascuna casella dal posto dove si trova attualmente al posto dove dovrebbe andare a finire. Quindi per esempio l'1 dovrebbe fare 1, 2, 3 e 4 mosse per poter minimo, quindi cioè la cosiddetta distanza Manhattan. Per poter arrivare a destinazione il 2, 0, il 3 ne dovrebbe fare 3, il 4 ne dovrebbe fare 3, il 5 ne dovrebbe fare 1 perché è proprio adiacente, il 6 si trova già al suo posto, il 7 dovrebbe fare 2 mosse, dovrebbe scendere giù di 2 e l'8 dovrebbe fare una mossa per la distanza a sinistra. quindi qui la somma da 14. È una euristica ammissibile, vediamo, è positiva sì, è 0 per il gol sì, è una sottostima del gol sì, è una sottostima perché chiaramente è molto difficile che ogni casella dovrà sicuramente fare un numero di mosse nel gioco originale, dovrà fare un numero di mosse che è superiore alla distanza a Manhattan che la separa da quella casella, da quella tessera dal posto che dovrà occupare nel gol definitivo e quindi effettivamente anche 2 è una distanza a Manhattan. La distanza a Manhattan è una funzione euristica. È una funzione euristica che ha anche una proprietà rispetto a quella precedente, quella di essere più informata che significa che dato un qualunque nodo, H2, che ricordo è sempre comunque una sottostima del costo ottimo, è maggiore di H1 o uguale ad H1 per qualunque nodo. Questo significa che H2 è più informata e questo è un concetto importante perché quando accade questo e cioè che per qualunque nodo una euristica è migliore dell'altra, si dice che la prima domina alla seconda, si dice che effettivamente abbiamo un miglioramento certo del branching factor. Per esempio, nel caso appunto che abbiamo visto dell'n puzzle, con una soluzione a profondità 14, abbiamo che 14 mosse, abbiamo che svilupperebbe mediamente, questo è un calcolo statistico, più di 3 milioni di nodi, mentre invece Astar con la prima euristica, quella del numero che sale fuori posto, ne sviluppa 539 e invece con la distanza a Manhattan come euristica, ne sviluppa 113. Nel caso in cui la soluzione a profondità 24, abbiamo più di 54 miliardi di nodi senza l'euristica, 39 mila nodi sviluppati con la prima euristica e solo 1600 con la seconda euristica. Questo ci dà il senso dell'importanza, innanzitutto di utilizzare l'euristica, però cominciamo anche a darci il senso dell'importanza di avere un'euristica che domini un'altra. Magari fosse sempre così che un'euristica si trovano due rischi di tali che una domini l'altra. Spesso per alcuni nodi un'euristica ha un valore migliore, maggiore, per altri nodi ha un valore peggiore, minore. In questi casi però noi possiamo comunque prendere il massimo valore delle due e si può facilmente dimostrare che anche questa è un'euristica e quindi questa funzione, il funzione massimo delle due, la possiamo prendere come nuova euristica. E questo ovviamente lo possiamo sendere anche a 3, a 4 se abbiamo n euristiche, nessuna delle quali o solo alcune delle quali dominano altre, noi possiamo comunque fare il massimo, quindi avere un'ulteriore euristica, una n più un'esimo euristica al massimo, che le domina tutte quanti. E quindi il problema lo risolviamo facilmente, quello di trovare un'euristica dominante. Però adesso dobbiamo cercare di capire effettivamente come valutare l'efficacia dell'euristica, perché poi in realtà anche la stima dell'euristica avrà un suo costo, quindi bisogna vedere se vale la pena o no spendere tempo a calcolare l'euristica rispetto al miglioramento e che quell'uso dell'euristica rispetto magari a un'altra mi darebbe, anzi rispetto sicuramente a un'altra, perché la ricerca con euristica sicuramente è migliore della ricerca senza euristica. Per poter valutare il potere di efficientamento dell'euristica, si introduce normalmente il fattore di dinamazione effettivo, chiamato così B-STAR. Perché appunto abbiamo detto che l'euristica ha l'effetto di ridurre il fattore di dinamazione, questo però ha una valenza statistica e bisogna dare comunque una stima. Questo fattore di dinamazione effettivo è la stima che cerchiamo. Cioè si sviluppa il problema con A-STAR, si va a calcolare, data la soluzione trovata ottima, la sua profondità D e il numero di nodi che sono stati espansi per determinarla. A questo punto, dato N e data D, il fattore di dinamazione effettivo B-STAR è la soluzione di questa equazione. Cioè in pratica è il fattore di dinamazione che se fosse stato costante per ogni passo dello sviluppo dell'albero di ricerca, se fosse costante ad ogni sviluppo dell'albero di ricerca, avrebbe determinato esattamente quel numero di nodi. Quindi, per esempio, supponiamo di aver trovato con la N-Puzzle una soluzione a profondità 5, aver espanso 52 nodi, avrebbe un fattore di dinamazione effettivo 1,92. Allora, quello che possiamo dire, sintetizzando tanti studi che sono stati fatti a riguardo, statistici e prestazionali, possiamo dire che una buona oristica dovrebbe avvicinarsi il più possibile ad 1, che ovviamente significherebbe appunto avere un'oristica oracolo, quindi non può essere 1, però sarebbe bene che fosse minore di 5. Facciamo un esempio, cioè l'esempio di prima, però fatto su base un po' più statistica, e sempre abbiamo quindi l'N-Puzzle, sviluppato a, avendo dato dei problemi, ogni stanza di problemi ripetuta 100 volte, problemi con la cui soluzione era profondità crescente, 2, 4, 6, 8, 10 e così via. Qui abbiamo riportato sia il numero dei nodi espansi che il fattore di diagrammazione effettivo è corrispondente, mediato rispetto al valore medio, perché, ripeto, tutti questi dati sono mediati su 100 istanze del problema che sono state utilizzate. Cosa vediamo qui? Vediamo che, nel caso della distanza Manhattan, H2, il fattore di diagrammazione effettivo si mantiene sempre minore del fattore di diagrammazione effettivo della distanza, il numero di caselle fuori posto, la H1. Inoltre vediamo che l'efficacia dell'euristica aumenta con la profondità della soluzione, perché il fattore di diagrammazione effettivo, ma questo lo sapevamo già, che il branching factor diminuisce con la lunghezza della, con la profondità della, della soluzione, e qui lo verifichiamo anche con il fattore di diagrammazione effettivo, vediamo che più è profonda la soluzione, più il fattore di diagrammazione effettivo tende a scendere. Per cercare di concludere, di acquisire il senso dell'importanza di nuovo, di avere un'euristica efficace con un buon fattore di diagrammazione effettivo il più possibile vicino a 1, supponiamo di avere un fattore di diagrammazione effettivo pari a 2, e avremo che in pratica con un numero di nodi espansi 100 arriveremo a profondità 6, con un numero di nodi espanso 10.000 arriveremo a profondità 12. Basta per modo di dire, perché potrebbe non essere così facile, individuare un'euristica con un fattore di diagrammazione effettivo di 1.5 invece che 2, come vedete a parità di nodi espansi si va a raddoppiare la profondità della soluzione cercabile a parità di numero di nodi espansi. Quindi, di nuovo, è molto importante avere una funzione euristica in grado di ridurre il fattore di diagrammazione effettivo. In generale, possiamo quindi dire che una funzione euristica che domina un'altra è più efficiente, questo è ovvio, però bisogna vedere quanto costa andarla a valutare, quella funzione euristica. Nel caso, ad esempio, dell'Atlante stradale, tutto sommato ce la possiamo chiamare, perché se noi dovessimo pretabellare la distanza in linea d'area fra tutte le coppie di tutte le città che ci sono al mondo, ovviamente avremmo 2 alla n, dove è nel numero delle località significative al mondo, una tabella di 2 alla n caselle, sì, la potremmo ovviamente fare questo lavoro offline, non so quanto durerebbe, ma sarebbe sicuramente una tabella molto grande, probabilmente troppo grande per poter essere memorizzata su qualunque dispositivo, su qualunque computer. Ovviamente, noi non dobbiamo fare questo lavoro prima, e questo è il vantaggio di quella distanza in linea d'area, perché basta conoscere le coordinate polari dell'attitudine e longitudine delle due località che con una semplice formula trigonometrica si deve calcolare la distanza in linea d'area, ortodromica o lossodromica che sia. Però, in generale, quindi tutto sommato il calcolo della euristica di distanza in linea d'area non è certamente un calcolo proibitivo. In generale, però, questo potrebbe non essere. Ci potrebbe essere il caso di funzioni euristiche che sono il cui calcolo è di per sé un calcolo significativo. A questo punto, sì, avremmo magari una euristica con un potere di efficientamento ottimo, maggiore di altre, che però richiederebbe un enorme costo di calcolo, per cui, in effetti, bisogna andare a vedere se la spesa vale l'impresa, perché potrebbe essere che il costo della strategia potrebbe salire molto per euristiche che siano in grado effettivamente di ridurre il costo della ricerca, potrebbe salire troppo. Quindi bisogna trovare il giusto mix per capire qual è il mix di complessità del costo del calcolo dell'euristica e riduzione del costo della ricerca da parte dell'euristica che ci consente effettivamente di poter avere un miglioramento prestazionale complessivo. Questa era la parte che riguardava il confronto fra il potere di efficientamento di due o più euristiche, qualora le abbiamo già trovate. Ma c'è un problema a monte, effettivamente. Come determinare le euristiche? Chi è che ha pensato le euristiche a numero di caselle fuori posto, somma dell'istanza Manhattan delle caselle dell'Ene Pasor? Come è venuta questa intuizione? Chi ha pensato alla distanza linea d'aria? Ce ne erano altre di euristiche ammissibili per l'Atlante stradale? Andare a nord, andare a sud, più a nord, più a sud. Si potevano pensare anche altre strategie per l'Atlante stradale, come per qualunque problema si possono trovare altre strategie. Come farlo? Ecco, come determinare le euristiche? Sostanzialmente, la letteratura ci propone tre metodiche per andare a individuare le euristiche. Le euristiche si possono individuare rilassando il problema che dobbiamo risolvere e andando, come vedremo, a cercare la soluzione ottima del problema rilassato per ogni nodo. Oppure da un database di sottoproblemi, cioè di database, di modelli semplificati del problema oppure semplicemente possono derivare dall'esperienza. Queste due sottocasistiche non abbiamo adesso il tempo di trattarle, per cui ci concentriamo solo sulla prima metodologia, quella che ci consente di trovare delle euristiche rimuovendo dei vincoli, cioè quindi rilassando il problema che dobbiamo risolvere. Cerchiamo di capire come fare questo. Innanzitutto, questo è un problema rilassato. Un problema rilassato è un problema, rispetto a quello originario, ovviamente, con meno vincoli restrittivi sulle azioni, quindi consentono più azioni. In pratica, quello che abbiamo è che, dato lo spazio degli stati originario, rilassando i vincoli che vincolavano le azioni, potendo fare più azioni, in pratica per ogni nodo potremmo avere più archi e quindi di fatto si va ad ottenere uno spazio degli stati con più archi per ciascuna coppia di nodi, eventualmente più archi per ciascuna coppia di nodi e quindi di fatto un super grafo. Se ne aggiungono di archi ma non se ne toglie nessuno degli archi che già c'erano. A questo punto si va a cercare una soluzione ottima del sottoproblema offline, ovviamente. Appunto, quando parlavamo prima del costo della definizione dell'euristica era questo che, diciamo, se pensate di dover fare questa operazione per ogni nodo. Per ogni nodo bisogna andare a trovare il costo del percorso da quel nodo al nodo goal passando però non nel grafo spazio degli stati originali ma per il super grafo spazio degli stati rilassato. Chiaramente avremo più percorsi e quindi potremo eventualmente trovare un percorso più breve. e a questo punto il percorso che troveremo ottimo e troveremo sarà una il costo di questo percorso ottimo sarà una sottostima del corso del percorso ottimo del problema non rilassato. Sarà positiva sarà zero per il goal e in pratica quello che andiamo a determinare trovando il percorso ottimo di un ciascun nodo del sottoproblema rilassato quello che andiamo a determinare è proprio una funzione euristica per il problema non rilassato cioè il costo ottimo del problema rilassato per ogni nodo può essere usato come euristica per quel nodo lì nel problema non rilassato. E si nota appunto notiamo che questa euristica non solo è ammissibile ma essendo essa stessa un costo il costo del problema rilassato deve obbedire per forza alla diseguaglianza triangolare quindi sicuramente questa euristica sarà una euristica ammissibile e monotonica per esempio più che per esempio qui vediamo anche di rispondere alla domanda ma che per caso ci sono modi per poterle determinare automaticamente queste euristiche questa era la domanda originaria che stava dietro a questa questo approccio cioè determinazione delle euristiche da problemi rilassati se i vincoli che costringono le azioni sono esprimibili in maniera formale se i vincoli del nostro problema che dobbiamo studiare sono esprimibili in maniera formale sì che è possibile trovare automaticamente delle euristiche per questo problema facciamo un esempio nel caso dell'n puzzle noi possiamo dire che i vincoli sono sostanzialmente due perché il problema si può definire da questa equazione da questa formula logica qualunque sia la tessera che vogliamo spostare da un posto A a un posto B noi possiamo muovere questa tessera da A a B se e solo se le due locazioni sono adiacenti e la locazione B è vuota cioè non c'è una tessera nella locazione B questi sono i vincoli che le due locazioni A e B sono adiacenti e che la locazione di destinazione sia vuota che determinano la mossa la possibilità di poter fare una mossa quindi noi ci chiediamo posso spostare il 5 dalla posizione 1-1 alla posizione 1-2 e no perché le posizioni sono adiacenti questo vincolo è rispettato ma non è rispettato il vincolo che la casella 1-2 sia vuota perché c'è la tessera 4 sopra allora noi abbiamo qui due vincoli che vincolano le mosse e quindi possiamo trovare un problema rilassato eliminando uno dei due per esempio che le due relazioni siano adiacenti possiamo determinare un altro problema rilassato eliminando il secondo vincolo che la casella di estensione sia vuota o possiamo eliminare entrambi beh allora se noi andiamo a notare possiamo notare questo che se noi eliminiamo entrambi ad esempio il terzo caso che vediamo qua giù i vincoli e cioè diciamo che per qualunque tessera e qualunque locazione A e B noi possiamo muovere la tessera da A a B quindi prendendo l'aeroplano per muoversi quindi con una sola mossa la casella si sposterebbe da dove si trova a dove deve andare ignorando il fatto che la locazione dove deve andare nel gol sia già occupata quindi eliminiamo entrambi i vincoli abbiamo certamente un problema rilassato la cui il cui costo ottimo in pratica è dato dal numero di caselle fuori posto perché dovremmo fare tante mostre quante sono le caselle fuori posto né una in più né una in meno quindi il numero di caselle fuori posto che sarebbe la soluzione del costo ottimo che sarebbe il costo ottimo del problema rilassato diventa la leuristica una possibile leuristica del problema originario se noi per esempio rimuoviamo solamente il fatto che la la casella adiacente sia sia vuota quindi ammettiamo che per esempio una tessera possa salire sopra un'altra nello spostarsi e andiamo eliminando questo vincolo andiamo a cercare il costo ottimo abbiamo che in pratica il costo ottimo è quello per ogni per ogni tessera fuori posto andare a fuori posto a questo punto è implicito andare a calcolare il numero di spostamenti che dovrebbe fare sia in orizzontale che in verticale per andare a finire nel posto che dovrà occupare al termine del gioco quindi in pratica rimuovendo il vincolo empty lasciando il vincolo adiacente quello che andiamo a determinare come costo ottimo è la distanza manatta di nuovo abbiamo un problema rilassato la cui soluzione ottima diventa euristica per il problema non rilassato se abbiamo rimuoviamo il vincolo di adiacenti e quindi a questo punto la tessera può volare da dove si trova o dove deve andare però rimane il vincolo che dove deve andare deve essere vuoto abbiamo un altro ancora costo ottimo che lo lasciamo come esercizio per pensarlo e individuarlo e comunque di nuovo questo costo ottimo qui può essere preso come euristica una terza euristica non l'abbiamo presa in considerazione per il problema originario ora la peggiore di queste euristiche è l'ultima perché ha rimosso due vincoli cioè meno si rilassa il problema originario quindi c'è un ordinamento parziale cioè può essere un ordinamento parziale sulle funzioni euristiche concettualmente possiamo dire intuitivamente meno si rilassa il problema meno vincoli si eliminano se è possibile trovare il costo ottimo per ogni nodo del sottoproblema poco rilassato quel costo ottimo che andiamo a vedere quella funzione di costo ottimo per ogni nodo del problema poco rilassato sarà molto probabilmente una buona euristica per il problema originario e questo appunto se il problema è possibile formalizzare in maniera formale come abbiamo fatto adesso nel caso dell'npuzzle possiamo anche trovare dei programmi che automaticamente dato il problema originario vanno a determinare delle possibili euristiche bene con questo si conclude questa unità didattica e si conclude anche tutto il modulo relativo alla ricerca nello spazio degli stati utilizzando funzioni euristiche